Parliamo oggi di insiemi limitati, sottinsiemi di numeri reali. Consideriamo x un insieme di numeri reali, quindi x sottinsieme di r, e sia x diverso dall'insieme vuoto. Allora, cominciamo a dare la definizione di maggiorante per l'insieme x. Un numero reale k lo diremo maggiorante per l'insieme x se è, concettualmente, maggiore di tutti i numeri presenti in x. Quindi scriveremo se x è minore uguale di k per un x appartenente a x grande. Quindi k si dirà maggiorante di x. Un numero reale h lo diremo minorante dell'insieme x se h è minore uguale di tutti gli elementi appartenenti a x grande. Quindi h minorante di x. Un insieme x che possiede un maggiorante lo diremo limitato superiormente. Quindi se esiste k maggiorante di x, allora diremo x diremo x limitato superiormente. Così, se x possiede un minorante, quindi esiste h minorante di x diremo x limitato inferiormente. Allora, vediamo di fare qualche esempio di insieme limitato superiormente e di qualche insieme limitato inferiormente. Andiamo a considerare, per esempio, l'insieme x costituito dai numeri reali tali che x è compreso fra lo 0 ed 1, compreso l'1. Va bene? Quindi x è l'insieme di tutti quei numeri reali compresi fra lo 0, 0 escluso e 1 incluso. Osserviamo che come maggiorante dell'insieme x possiamo prendere il numero k, che è 1. Infatti, se io prendo un qualunque elemento appartenente ad x, proprio da come è nato, da come è definito l'insieme x, segue che x è minore uguale di 1. Bene? Quindi ogni elemento di x è minore uguale di 1. 1 è un maggiorante. Come minorante, invece, dell'insieme x, grande, per esempio, possiamo prendere lo 0. Infatti, per come è definito l'insieme, qualunque x appartenente a x grande soddiffa la condizione che x è maggiore di 0. Ora, una cosa è importante far notare, che se esiste un maggiorante, se k è maggiorante di x, in realtà ne abbiamo infiniti maggioranti, perché ogni altro numero, k' maggiore di k è anche un maggiorante di x. Quindi, se abbiamo un maggiorante, in realtà ne abbiamo infiniti. Nell'esempio sopra, 1 è un maggiorante, però qualunque numero maggiore di 1 è ancora un maggiorante per l'insieme x. Così, se c'è un minorante, in realtà ne abbiamo infiniti. Se k è un minorante di x, allora qualunque numero, chiamiamo h' minore di h, allora segue che h' è minorante di x. Bene, nell'esempio sopra, un qualunque numero negativo risulta essere minorante dell'insieme x. L'insieme x si dirà limitato se è limitato sia inferiormente che superiormente. Bene, quindi semplicemente x si dice limitato se x è limitato inferiormente e superiormente. Grazie a tutti.